benvenuti ad una nuova puntata amici di sei a casa come sempre accanto a me c'è lui Matteo Bursi ciao Angela Boloni a tutti gli amici a casa diamo un carissimo e affettuoso saluto ci seguono sempre in tanti e sono molto molto onorati e anche contenti di questo oggi vi riportiamo a parlare di economia di imprenditoria lo facciamo con la chiave moderna veloce social e con sguardi al futuro eh sì e infatti con noi c'è Anna Supino titolare di Supino SRL benvenuta grazie e Giacomo Cecchin volto ormai noto a tutti i nostri amici che oggi rappresenta api industria responsabile comunicazione ben ritrovato Giacomo grazie grazie allora parliamo di inbound marketing e poi di social media raccontiamo però subito ai nostri telespettatori che cos'è l'inbound marketing perché parole inglese anzi due parole inglesi che si sente nominare più spesso rispetto a inbound che cosa significa che cos'è allora in realtà noi stiamo vivendo un momento in cui comunicare non è mai stato così facile e così difficile così facile perché sono molti canali così difficile perché bisogna selezionarli ma soprattutto inbound marketing vuol dire che io non devo più sollecitare non devo più disturbare o stressare i miei clienti o i miei potenziali lettori ma devo regalarle contenuti che possano indurli a venire a cercarmi a venire a visitare quello che è il mio blog il mio sito la mia pagina facebook il mio profilo linkedin e quindi inbound è un modo di dire che devo capovolgere il punto di vista non sono io che devo mandare spam e quindi inondare di comunicazione i miei potenziali appunto clienti ma io devo regalare contenuti costruire dei contenuti efficaci tali per cui gli altri abbiano interesse a venire a a venire sul mio sito il che vuol dire che non devo vendere il mio prodotto ma devo magari raccontare come il mio prodotto possa risolvere uno dei loro problemi questo è l'inbound in breve poi detto all'inglese naturalmente fa tanta scena assolutamente entrato in questo l'ultimo volume manto a mille imprese è dedicato un approfondimento a questo tema questo progetto anche di api industria di tutte le tantissime centinaia di industrie che fanno riferimento questo è un nuovo grande step una grande sfida che vedrà tante centinaia direi di aziende coinvolte in questo in realtà noi abbiamo partiamo sempre questo presupposto questo progetto ha ottenuto il finanziamento della camera di commercio di mantua perché l'ha ritenuto appunto meritevole dal punto di vista della promozione sulle aziende e devo dire che noi partiamo sempre da questo presupposto non insegnare agli altri quello che non sai fare tu e allora intanto lo impariamo noi tutti però intanto lo impariamo noi e così lo insegniamo anche agli altri per cui in effetti anche i corsi di formazione che stiamo lanciando sulle aziende sono legati proprio all'idea di portare a casa competenze trasferire competenze perché poi devo ammettere che le aziende che si approcciano a questi temi hanno a volte difficoltà che sono riuscire a gestirli in autonomia non è facile volevo arrivare infatti perché alla fine parliamo di comunicazione efficace giusto è chiaro che per le aziende strutturate o per chi magari si può permettere di appoggiarsi ad una struttura esterna riuscire a creare questi contenuti efficaci è più semplice ma per chi deve fare un po di fai da te i corsi vanno benissimo però ci hai citato davvero tanti social diversi non è semplice trovare il tempo anche da dedicare all'aggiornamento di tutte queste pagine perché poi se non vengono aggiornate nel modo corretto e anche nelle tempistiche corrette poi alla fine perdono di significato sì ma allora è effettivamente complesso ma è per questo che devo dire noi stiamo dicendo alle aziende che l'importante è provare a capire qual è l'obiettivo aziendale e come questi mezzi possano essere utilizzati in effetti per esempio l'azienda di Anna è un'azienda che sta portando avanti questo percorso e si sta interfacciando anche con l'associazione perché ha visto che non si può più permettere di non esserci e per esserci bisogna esserci bene penso Anna sì è così ci credo da parecchi anni nel senso che abbiamo cominciato già ancora nel 98 con il sito internet quindi siamo già stati dei precursori insomma a suo tempo motivo per cui siamo anche posizionati bene con il SEO quindi diciamo quando uno digita una parola chiave viene diciamo forse nei primi risultati che non è una cosa da niente e diciamo che la storicità del sito e dell'aver acquisito il dominio ci porta ad avere credibilità su Google e però poi ci sono appunto LinkedIn, Instagram, Facebook e io inizialmente avevo cominciato da autodidatta adesso mi sono appoggiata a un'agenzia che mi supporta per tutte le cose istituzionali però poi vedo che come presa, che come interesse sono le cose personali nel senso che quando magari... colpiscono sì, quando carico il volto di uno dei collaboratori piuttosto che una realizzazione però quelle cose genuine fanno molto di più di quella impostata dal nostro super grafico che è fantastico però è un po' più anonima quindi nell'era della spersonalizzazione, della freddezza eccetera si cerca invece il riparo della umanità sì, è quello che piace di più e poi anche questa cosa su Instagram che era un po' scettica forse anche perché la mia generazione non è Instagram ancora, cioè io sono più su Facebook però piace purtroppo siamo tutti così noi giovani, sì, noi giovani siamo più su Facebook che Instagram, esatto comunque all'interno dello showroom mi è entrato un cliente, una ragazza insomma sui 22 anni mi ha detto, scusi ma il vostro profilo Instagram, così guardo i prodotti con quella voce peraltro perché Instagram parla così però c'è già un gap generazionale sì, sì, ovviamente noi abbiamo questo profilo ma è molto basic quindi vedremo di incrementarlo motivo per cui ho proposto ad API questa professionista che è specializzata in Instagram dove andrò anch'io ovviamente nel corso anche Angela è interessata sì, ne ho bisogno parlavano fuori dai microfoni comunque è una chiamata alla quale tutte le aziende in qualche modo devono rispondere chi con un social, chi con tutti, chi con un'integrazione però non ci si può esimere in qualche modo assolutamente no dove comunque LinkedIn è più per la persona, per il professionista e poi ovviamente viene rimandato all'azienda Facebook è una sorta di vetrina pubblicitaria Instagram è emozionale comunque tutti bene o male poi riportano al sito quindi il farsi trovare uno comunque quando digita anche solo per cercare il panettiere uno guarda su Google quindi poi ci devi essere eh sì, prima o dopo comunque LinkedIn lo diciamo magari è meno conosciuto è più raccontarsi a livello professionale è un curriculum privato o aziendale che si condivide Instagram e Facebook fanno chi delle immagini chi veramente del racconto anche quotidiano è un'altra forza l'integrazione è forse la risposta Giacomo? Sì, diciamo così che oltre all'integrazione la risposta vera naturalmente è una coerenza nel senso che questi social che spingono certe volte a raccontarsi come non si è e quindi chi pubblica foto in televisione su Facebook magari senza pensare a quello che può essere la conseguenza chi pubblica continuamente foto su Instagram alcuni pubblicano foto di altri su Instagram, no? perché vogliono dare l'idea di eh essere diversi da quello che sono in realtà questi social puniscono probabilmente chi come nella vita finge, no? perché poi alla fine io posso avere un profilo Instagram perfetto posso avere un profilo LinkedIn incredibile poi però quando si arriva a eh incontrarsi di persona il fatto che io non sia esattamente come eh ti aspettavi non sto parlando della foto eh lì se no torniamo il principio è quello il principio è quello crea delle aspettative alte sì anche perché come succedeva nel passato quando non c'erano questi social dico su con i Gonzaga Facebook non c'era e che cosa facevano è naturale questi mandavano il ritrattino no? per prima del matrimonio per capire come era con qualche filtro filtrato poi se arrivavi avevi 20 centimetri in meno ed avevi la gobba dicevano scusa ma eh vabbè ma la foto è di fronte di profilo per cui quindi il principio è quello il principio è quello applicato all'azienda può essere un boomerang pazzesco assolutamente come un'opportunità di crescita e di arrivare a quelle generazioni che magari non entreranno più snobbando se non c'è un profilo di un social sì comunque tutti usano i social o uno o l'altro sì ci siamo tutti quindi cosa ho fatto io con la nostra azienda ci siamo su tutti così ognuno con cioè non non uguale quindi ognuno con un linguaggio diverso immagino posso immaginare allora generalmente viene creato un post unico e viene ripostato quindi praticamente rimesso diciamo ripubblicato su ogni canale cambiando il testo fondamentalmente l'immagine la grafica rimane quella però con un testo differente perfetto quindi personalizzato per Instagram piuttosto che per Facebook piuttosto che per questo è quello che mi fa l'agenzia l'agenzia è fantastica però bisogna sempre incalzarli perché loro non sono me non sono l'azienda non sono la nostra immagine quindi siamo in perenne contatto ci sentiamo almeno due volte la settimana quindi il fatto di esternalizzare non è dire fanno loro cioè ci sono io dentro che gli dico che cosa fare loro fanno diciamo quella che è la parte creativa la sua azienda tratta di che settore? abbiamo arredamento per ufficio e scaffalature industriali quindi il racconto anche estetico dell'oggetto del protagonista ha dietro uno studio anche nei social ovviamente assolutamente sì ecco tra le cose che si diceva di avere un'immagine personalizzata piuttosto che cioè le immagini del catalogo non vanno cioè se io su Instagram metto l'immagine di un catalogo perché ovviamente ho dei brand che rappresento non funziona funziona quando vado da un cliente faccio una foto di una realizzazione fotografo i miei ragazzi finché fanno l'installazione all'opera sì 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 quelle cose a parte che i like non vanno più adesso non è più di moda attenzione non la sapevo non si vede più il numero di like ah ma io non ho Instagram non dovevo dirlo non compro mobili su Instagram però scusate però gli smascheri non vanno più però le visualizzazioni che comunque si riescono diciamo ad analizzare molto importante è anche comunque continuare a tenere monitorato l'andamento quindi ci sono gli strumenti per valutare se stai facendo bene o male ecco il mondo dei social network ci riporta poi anche a tutta una questione che riguarda la sicurezza i dati personali dove vanno a finire i nostri dati personali e quindi ne parliamo nella seconda parte della nostra puntata chiediamo a Giacomo Cecchin di fermarsi con noi salutiamo invece Anna Suppino grazie davvero grazie a voi buon lavoro e la seguiremo sui social certo pubblicità tra poco grazie a tutti grazie a tutti